Confindustria Bergamo è una componente attiva del territorio, nella convinzione che crescita economica, sociale e culturale vadano di pari passo e contribuiscano l'una allo sviluppo dell'altra. Vogliamo mettere nella condizione le 1200 aziende associate a Confindustria Bergamo di poter diventare ciascuna un mecenate. Quota 15.000 è un progetto che offre alle aziende associate a Confindustria Bergamo l'opportunità di dare un contributo concreto a una delle istituzioni culturali più importanti della provincia e della Lombardia e al tempo stesso consente alle aziende di fare propria la bellezza del patrimonio artistico della Pinacoteca. Per cui la possibilità con dei pacchetti di acquisto di biglietti di diventare promotori di bellezza, sostenitori della vita e dei progetti di questo meraviglioso museo. È una soluzione diversa perché consente a tutti gli imprenditori di, con l'acquisto dei biglietti e non quindi il contributo dato all'associazione o all'accademia stessa, di poter far sì che anche i propri collaboratori, eccetera, possano soffrire con le proprie famiglie e divulgare in un certo modo anche la cultura. È una via nuova, sperimentata, che lanciamo qui, che lanciamo a Bergamo, che lanciamo in Accademia Carlana.